Novità in tema di rifiuti a Sant'Arsenio, il sindaco Donato Pica con un'apposita ordinanza che stabilisce le modalità e le procedure di raccolta differenziata, introduce anche una novità per incentivare il conferimento dei rifiuti in plastica e di alluminio negli ecocompattatori dislocati sul territorio comunale. Con l'ordinanza dello scorso 10 gennaio il primo cittadino infatti annuncia la riattivazione dal prossimo primo febbraio degli ecocompattatori sul territorio di Sant'Arsenio. I buoni sconto rilasciati, si legge sull'ordinanza, potranno essere consegnati all'ufficio ragioneria per la decurtazione dell'importo dalla parte variabile della tassa sui rifiuti, la Tari. I buoni sconto all'epoca dell'installazione degli ecocompattatori con l'amministrazione Coiro potevano essere spesi nelle attività commerciali del paese. L'ordinanza regola la raccolta differenziata secondo quanto stabilito da un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti istituito lo scorso 20 novembre. Raccomanda tra le altre cose il corretto conferimento dei rifiuti e rammenta le sanzioni amministrative da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro previsti in caso di violazione della stessa.